Un'altra vittima del covid, nonna Rosina non ce l'ha fatta. Rosa Libretti, in giaccherini, la 78enne di Teranova Bracciolini, che da settimane lottava contro le conseguenze dell'aggressione del virus, era ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo. Nei giorni scorsi i familiari, come forma di sostegno, avevano appeso uno striscione fuori dall'ospedale con scritto Nonna Rosina non mollare. La pensionata, dopo giorni di terapia intensiva, se n'è andata nelle scorse ore. Anche il sindaco di Teranova Bracciolini, Sergio Chienni, l'ha ricordata con un post su Facebook. È stata il fulcro della sua famiglia, un volto amico nel quartiere di Pernina, resterà una persona cara a tanti terranuovesi. Ciao Rosina, un abbraccio grande a tutti i tuoi familiari.